Si è concluso con esito positivo intorno alle 22 di venerdì 23 agosto un delicato intervento di soccorso dalla stazione di Forni di sopra con sei soccoritori insieme alla Guardia di Finanza e a lei di soccorso nei confronti di un 31enne di Trieste. La stazione è stata lettata intorno alle 18.30 dalla Sores a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza 112 da parte dei familiari del 31enne che era rimasto incrodato su una parete rocciosa friabile assieme al proprio cane. L'uomo era partito da Oltris ed era salito in direzione di La Teis in comune di Sauris per inepicarsi dopo il ponte del Lumiei lungo una traccia di sentiero nera e per proseguire poi su roccette fino a bloccarsi a quota 1.100 senza più riuscire a proseguire né a ridiscendere. Sul posto anche l'elicottero ma impossibile e causa la zona impervia far calare con il vericello i soccoritori. L'uomo è stato raggiunto, imbragato, assicurato e calato con la corda dopo aver fatto un ancoraggio su alberi. Allo stesso modo anche il cane è stato imbragato, c'era tra l'altro anche un soccorritore cinofilo e calato in sicurezza. L'operazione si è conclusa come detto poco dopo le 22. L'uomo è stato raggiunto, è stato un'occhezza di un'occhezza di un'occhezza di un'occhezza di un'occhezza.